Allora, Instagram, Giorgia Polo, parlaci di Instagram, io non so nulla? Instagram è un luogo dove la gente pubblica foto, un luogo, un social network dove... E tu Giorgia sei seguitissima? Sono seguitissima, ho più o meno 55.000 follower Come te ne sei conquistati? Eh, probabilmente, non so, conquistati, facendo, postando foto di cose che mi piacciono, creando delle composizioni E alla gente queste cose piacevano E tu la fotografia la fai da quando? Ma in realtà non l'ho mai fatta, non sono mai stata una fotografa, non voglio neanche esserlo Però mi diverte fare questi giochi Che cosa ti piace fotografare? Oggetti Creare delle composizioni con gli oggetti E anche... Con le uova ho visto anche Quello con le uova, con gli ingredienti Cioè il cibo, anche fotografare il cibo, ma non come piatto di pasta Buonissimo questo piatto di pasta Ma più per la composizione in sé, per i colori, per... Qual è la foto che è piaciuta più di tutti ai tuoi followers? È un ananas Un ananas di glitter È la foto che piace di più a te? Oh mio Dio Non ho mai fatto una classifica delle mie foto Ma una che ti è riuscita particolarmente bene Sei contenta? Ne ho fatte talmente tante che sto facendo fatica a ricordare Posso guardare? Sì No, ero all'aiuto dal pubblico La cosa incredibile? Beh, anni fa ne facevo diverse Che mi divertivano molto Ce n'era una con le luci di Natale In cui c'ero io con delle luci di Natale addosso Quello ha avuto anche abbastanza successo Ma piaceva soprattutto a me La cosa incredibile è che ricordi i nomi di tutti i tuoi followers Questa non è mai successa per nessuno Certamente, li conosco uno a uno Li contatto tutti i giorni E li ringrazio Complimenti allora Grazie